Tomasso provincia di Tieto, vai Tomasso. Come venuti? Sì, venuti. Ehi, ascolta, io non voglio dire ho fatto un po' di capi, 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 ho fatto un po' di capi. Si, si dice ho fatto un po' di capi. Ma io rispetto assolutamente la di Maria, insomma non vorrei mai che fosse qui su la mia paura, contestavo, contestavo, ci mancate una frase il signor. E' un po' che dice di non avere mai incontrato un'unità di merda e sopra la nota su, tra quale le ordine. E' un po' di qualità di terminicidio, però è di qualità di in quel modo. E' un po' che dice di continuare a distribuire merda con l'Italia, come ha andato a farlo pure sul capo. Ok, ma se non ti parli, di che parli esattamente? Ma di che parli esattamente? Ma come fanno con piacere? Ma di che parli esattamente? Di cosa stai parlando? Lo ho capito, lo ho capito. E' un po' di qualità di merda dalla mattina alla sera, ok? Fate qualcosa da più utile a questa unica.